Ciao a tutti ragazzi, allora oggi vi voglio parlare di liquidi naturali disgreganti per il bici chimico per la precisione di Solbio, quindi liquido completamente naturale, andiamo a vederlo insieme Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Van Sweet Fun, io sono Ale alias Mastro Marmotta sapete che ormai da anni ho questo canale in cui vi parlo di camperizzazioni fai da te, Van Life e tutto quello che è legato a questo mondo tra l'altro se non lo foste già vi invito ad iscrivervi al canale e di seguirmi anche sul canale Instagram detto ciò come vi anticipavo discorso bici chimico, discorso Portapotti, ok? Portapotti è il nome diciamo la marca di questo bici e quindi vi voglio parlare di bagni in van o in barca o comunque quando si è in mezzo alla natura allora ovviamente c'è sempre l'opzione se uno fa campeggio libero di essere disperso in mezzo a nulla però e quindi magari avere la possibilità di andare nel bosco però secondo me io sono un grande sostenitore del bici in van perché? Perché ci sono certe situazioni in cui è sempre comodo averlo, è molto utile e è veramente pratico secondo me io all'inizio quando l'avevo comprato non l'utilizzavo perché non mi andava di pulirlo eccetera così ma da quando ho iniziato a usarlo è veramente una figata detto ciò torniamo al discorso di liquidi allora ancora penso un anno fa Solbio mi ha mandato, che è una ditta belga, mi ha mandato questo liquido qua da provare, da testare come sapete io viaggio tanto, ho fatto tutto il giro dell'Europa nel 2018, adesso sono appena tornato da un giro di un mese in Scozia e faccio praticamente solo campeggio libero questo cosa vuol dire? Vuol dire che appunto non ci si appoggia a strutture fisse quindi anche per il discorso di scarico, carico acque, carico acque grigie, scarico bagni quando si ha la possibilità ovviamente si cerca sempre di andare nei camper service che sono quelle zone apposite dove si scaricano tutti i liquidi e dove si carica le acque ma talvolta si scarica anche nella natura per questo motivo io utilizzo solo prodotti completamente naturali e qui mi ricollego appunto a questo prodotto il WC come sapete quando lo utilizzate ha bisogno di qualcosa per diciamo liquefare tutto soprattutto la popò, la cacca in altri video vi ho già parlato del portapotti, di come funziona, da come è strutturato come fare, come caricarlo, come scaricarlo eccetera vi rimando agli altri video per questo e per questo motivo cercavo anche di evitare di utilizzare liquidi chimici allora talvolta non utilizzavo proprio nulla in quel caso vi consiglio di scaricare specialmente d'estate il bagno ogni giorno perché sennò inizia a puzzare subito per scaricare appunto se mettete liquidi chimici dovete per forza assolutamente andare nelle aree apposite anzi se usate liquidi chimici non scaricate neanche nel WC di casa è meglio andare appunto in queste zone per questo cercavo appunto un prodotto che mi desse la possibilità di scaricare anche in giro naturale e qui viene in soccorso sul bio è composto, devo dire, a parte che la confezione secondo me è veramente una figata è comodissima, è come il vino bang in the box e questa qua è la confezione da 1,6 litri da 40 che si può utilizzare per 40 volte questa qua invece è da 0,8 come vedete l'ho quasi finita e è da 0,8 litri volendo c'è anche la confezione diciamo pacchetto famiglia annuale da 10 litri che è bello grosso però ovviamente anche nel mio van questo qua me lo sono camperizzato fai da te e con allestimento mobile lo spazio non mi permetterebbe di averlo questo liquido qua da cosa è composto? ve lo leggo perché non voglio sbagliare allora è composto da acido citrico, concentrato vegetale, tessuti di sapone e oli essenziali è certificato ecologico come potete vedere nei certificati e vegan anche quindi ok ovviamente si consiglia sempre di scaricare nei bagni o nelle apposite zone ma se capita e questa è la grande svolta anche questo si può scaricare nel wc di casa o anche volendo nel compost o scavare una buca mi raccomando sempre meglio fare questi scarichi qua lontano dai corsi d'acqua nel terreno e possibilmente compratevi una pala piccolina pieghevole metallica io non ho una piccolina veramente comoda scavate, svuotate il contenuto e lo ricoprite come funziona? funziona? si? no? eccetera? allora il wc chimico per chi non lo sapesse questo qua tra l'altro si può utilizzare anche in barca nei wc nautici che poi scaricano in mare non ha per nulla nessuna sostanza chimica questo wc è formato da la parte intorno qua è il serbatoio delle acque di scarico quindi uno schiaccia qua c'è la pompetta e viene l'acqua lì una volta che uno ha finito tutto apre si scarica e va tutto nella vaschetta sotto questo liquido infatti va messo nella vaschetta sotto appunto per coprire gli odori e appunto disgregare per quello è un disgregante grazie al pazzo io comunque ne metto anche un pochino nella panica superiore diciamo di scarico perché così quando tiro l'acqua igienizza e profuma anche qua nel wc ce ne vanno circa 40 millilitri consigliati poi vedete voi dipende anche dalla grandezza del wc perché ce ne sono di tutte le misure 40 millilitri sono per darvi un'idea due shots di quelli due ciupiti del bar più o meno e un altro utilizzo che faccio è nelle acque grigie cioè il serbatoio di scarico di scolo scusate del lavandino perché anche qua quando lavate i piatti scolate la pasta eccetera eccetera rimangono sempre liquidi organici quindi per evitare muffe o cattivi odori dentro la tanica delle acque grigie ovviamente ne metto meno rispetto al wc ma un goccino ce lo metto giusto per per coprire questo io devo dirvi nell'ultimo mese in scozza mi sono trovato benissimo temperature fra i 15 10 15 e i 25 gradi quindi non caldissimo l'anno scorso quando l'ho usato in italia al caldo caldo dopo un po di giorni specialmente quando ci sono magari 40 gradi un po di odore si sente ma questo è inevitabile ma il fatto di rimpiazzare i prodotti chimici secondo me è veramente una grande svolta detto ciò ripeto ovviamente quando fate campeggio libero lasciate ma in generale nella vita è arrivato in un luogo e cercate di lasciare più pulito di quando siete arrivati e cerchiamo di non inquinare assolutamente capita a volte appunto di scaricare in natura ma meglio farlo quando si utilizzano prodotti naturali e scegliete bene magari anche la zona dove farlo perché se tutti lo fanno nello stesso posto non va molto bene però se trovate una zona isolata così dove lo fai solo te la volta dopo lo farà qualcuno un mese dopo è meglio detto ciò vi lascio il link qua sotto così vedete il costo che adesso non mi ricordo sembra sia intorno ai 20 euro e potete valutare se prendere il pacchetto quello più piccolo questo qua intermedio o quello gigante da 10 litri comunque secondo me questo qua da un litro e 6 e 40 40 dosi è migliore qua c'ha il pulsantino il tappino appunto come per il vino e basta penso di avervi detto tutto se avete domande e dubbi commentate qua sotto iscrivetevi al mio canale e tra l'altro potete seguirmi nell'avventura di tutti i giorni su instagram bene è tutto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie